Rietriamo in studio e parliamo di una conferenza proprio specifica dei GAL di Puglia dove appunto vi è stata la conferenza stampa dei GAL pugliesi del progetto Tour Puglia, quindi avremo la possibilità di mandare quelle che sono le immagini, anche l'intervista a Carmelo Rollo di Presidente di Lega Coop e in questa conferenza stampa è stato presentato il documento strategico realizzato da Otto GAL pugliesi in collaborazione con l'Associazione Italiana Turismo Responsabile. L'incontro appunto si è svolto il 6 novembre scorso a Bari presso la sala convegni del corpo forestale presso il palazzo dell'assessorato regionale all'agricoltura e ha offerto una visione organica e condivisa delle sinergie presenti sul territorio. Inoltre è stata anche l'occasione per presentare i risultati ottenuti in questi anni grazie al progetto Tour Puglia. Sentiamo quindi l'intervista realizzata con Carmelo Rollo di Lega Coop. Dal nostro punto di vista è fondamentale il confronto sul tema, conoscere quello che è accaduto e trasferirlo anche agli altri, informare rispetto a quello che è stato, sono stati i dieci anni che sono passati e evidentemente partire da lì per il futuro. La cooperazione può essere uno stimolo, può essere uno strumento, può essere l'opportunità di spingere a mettersi insieme, ad aggregarsi, perché no, portarsi a casa il risultato di un gruppo d'acquisto, di un'attività consolidata sul territorio ma che sia anche un'opportunità per chi arriva su questo territorio. Insomma, raccontare il territorio che è una delle cose più belle, più importanti che dobbiamo fare in quanto persone pugliesi. Per questo spazio editoriale di questo weekend è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.